Messe in sicurezza del patrimonio di lizio e rischio sismico italiano. Il tema ritorna puntuale nell'agenda politica dopo ogni terremoto. Già, chi potrebbe obiettare del resto la necessità di agire prima delle catastrofi e non dopo per contare i morti? Il problema sono però i soldi e anche i tempi. Bisognerebbe agire su milioni di appartamenti, in particolare nelle aree interne del paese, e c'è chi preventiva cifre iperboliche superiori a 1000 miliardi e tempistiche superiori a 50 anni. La senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, proinvita a crederci. Il programma Casa Italia spiega i nostri microfoni già allo studio del governo e avrà una dotazione nell'ordine dei miliardi. Certo, l'intervento è immane da far tremare i polsi, ma l'importante è cominciare. Abbiamo già in una commissione congiunta Camere e Senato con il sottosegretario De Vincenti impostata l'idea di un programma, Casa Italia, che dovrà svilupparsi per diversi anni e che dovrà avere un finanziamento permanente di svariati miliardi per consentire all'area più a rischio dell'Appennino di poter effettuare quelle ristrutturazioni e quegli adeguamenti sismici che finalmente potranno dare sicurezza ai cittadini. La senatrice evidenzia poi che decisivi saranno gli incentivi per intervenire sulle seconde case che rappresentano il grosso del patrimonio edilizio e rischio, comunque abitato nei paesi dell'interno. Ora gli stessi che per l'Aquila non vollero la ricostruzione delle seconde case inneggiano la ricostruzione delle seconde case. Quindi si sta riaprendo un discorso anche su questo e perché poi le esperienze insegnano che i borghi hanno per l'appunto una loro integrità architettonico-urbanistica, non possono essere trattati come dei pettini sdentati per cui ci sono dei denti che vanno rimessi a posto ed altri che invece rimangono rotti.